Siamo a San Giorgio Siamo alle porte di Mantua, a pochi chilometri c'è il centro e proprio in questo punto si stanno scavando delle tombe, anzi è una vera e propria necropoli dell'età del rame. Quello che colpisce nelle tombe che si sono salvate dalle arature, dai vari rivolgimenti che hanno avuto nel corso del tempo è soprattutto la ricchezza del corredo. Quando è integro vediamo punte di freccia, vediamo lame e vediamo soprattutto dei bellissimi pugnali. Qui ne hanno individuato uno e seguiamo proprio lo scavo del pugnale in diretta. Allora qui sembra che effettivamente la tomba è molto ben conservata innanzitutto rispetto insomma alle altre. Decisamente, non è stata intercettata da nessuna evidenza successiva e un po' dislocate le vertebre ma diciamo che nel complesso ha un ottimo stato di conservazione. Il corredo è più o meno nella posizione in cui dovrebbero averlo deposto. Quindi qui cosa vediamo? Allora ci sono delle punte di freccia in selce, questo è un pugnale sempre in selce e là una cosa un po' più particolare perché è una lama in selce che bisogna capire se è di deposizione o magari caduta dentro diciamo per errori. E' quasi strano ecco, è più probabile che faccia parte della deposizione. Qui diciamo quando poi la tomba verrà studiata sappiamo che abbiamo il corpo in buono stato. Esatto. La deposizione nello stato originario più o meno. Principalmente sì, esatto. Diciamo dal punto di vista affonomico non ci sono stati tanti spostamenti. No, non sembrerebbe. E poi c'è il corredo, il corredo che è composto da questo pugnale che sto vedendo qui. Esatto. Da una punta di freccia che proprio vedo dove c'è il corpo e altre due subito dopo il cranio. E infine c'è quello che bisogna vedere se è relativo alla tomba o meno che comunque è una lama non perfetta ecco quindi sembra a differenza delle altre. E poi insomma direi che questo è proprio un bel esempio insomma di sepoltura. Sì, del periodo del rame sicuramente. Particolare forse anche la posizione delle gambe di questo individuo rispetto a quelle che abbiamo trovato negli altri. che sono molto più... normalmente si trova in questo punto. Questo invece è particolare. Ci troviamo in provincia di Mantova a San Giorgio Bigarello, un comune che si trova alle porte della città di Mantova. E un comune tra l'altro di grande interesse e sicuro interesse in quanto già insomma da decenni ormai l'area è diffusamente interessata da rinvenimenti archeologici di ogni genere e di ogni cronologia. Tra l'altro appunto si tratta di uno di pochi comuni della provincia di Mantova dove pressoché l'80% del territorio comunale è sottoposto ad un'area di salvaguardia del patrimonio archeologico proprio in virtù delle destinazioni urbanistiche. Abbiamo già evidente una sepoltura in umazione in via preliminare ascrivibile all'età del rame e che deve essere sicuramente appunto vista la vicinanza posta in relazione con le tombe che sono già state scavate e recuperate alla fine del 2023 e che insomma molto hanno richiamato l'attenzione del pubblico. Proprio quei rinvenimenti in virtù dell'eccezionale stato di conservazione del materiale scheletrico e anche insomma della qualità del dato archeologico che era possibile raccogliere hanno suggerito di estendere le indagini anche a delle aree dove il progetto dell'amministrazione comunale di San Giorgio non aveva in realtà necessità di scavare. Tuttavia proprio insomma la qualità del rinvenimento e la considerazione che spesso si tratta di tombe che si presentano a gruppi richiedeva comunque un supplemento di indagine che appunto ha dato dati che si auspicavano. In base a quello che già abbiamo visto durante lo scavo che naturalmente è un risultato che poi andrà meglio puntualizzato e definito col procedere delle analisi e degli studi in ogni caso non abbiamo dubbi siamo nel periodo eneolitico quindi siamo in una fase che cronologicamente si colloca tra 3005 e 2005 avanti Cristo l'età del rame. In questa necropoli per adesso abbiamo individuato 22 sepolture non tutte fornite di corredo ma quelle che hanno presentato corredo hanno restituito elementi che sono molto ben collocabili all'interno di questo ambito culturale perché abbiamo visto pugnali di varia foggia e punte di freccia sempre di tipo fogliato che ci aiutano a comprendere che questa necropoli è di tipo remedelliano dalla più nota necropoli di Remedello una nota località nel Bresciano che dista da qua circa 40 chilometri. Ecco qui ci troviamo ai margini di Mantova siamo in una zona che lottava con le acque, vero? dal punto di vista del paesaggio, diciamo, archeologico. Esattamente, sì, siamo in una zona che sicuramente dalle epoche più antiche ha un rapporto travagliato ma sicuramente molto stretto con le acque a riprova di questo fatto possiamo anche ricordare che l'area su cui ci troviamo storicamente nota col toponimo di Mottella quindi appunto un'area probabilmente sopraelevata rispetto al resto della pianura circostante e che come tale potrebbe essere stata effettivamente generata anche dalla divagazione fluviale del Mincio in questi territori. Avete sentito interesse da parte della comunità locale? Sì, allora l'interesse è stato sicuramente fortissimo proprio perché appunto abbiamo a che fare con rinvenimenti di cronologie e anche di qualità sicuramente eccezionali c'è da aggiungere il fatto che da decenni effettivamente il Comune di San Giorgio Bigarello restituisce testimonianze archeologiche sempre di grandissima qualità non molto distante da quest'area quindi sempre nel Comune di San Giorgio ad esempio sono stati rinvenuti i famosi amanti di Valdaro che sebbene esposti al Museo archeologico nazionale di Mantova provengono in realtà da questo Comune e di fatto è un territorio che a partire dal secondo dopoguerra ha conosciuto una grandissima espansione edilizia e anche industriale e pertanto molto spesso è difficile riuscire ad avere cognizione di quello che era il territorio in passato. Viene compreso questo lavoro dell'archeologia di territorio secondo lei? Io credo proprio di sì, tra l'altro questi scavi che tra l'altro sono racchiusi proprio all'interno del centro abitato come vede hanno suscitato un interesse notevolissimo da parte dei nostri cittadini perché tutti ci si chiedeva ma cosa c'è, ma perché, ma perché i lavori non vanno avanti. Ora da un certo punto di vista ovviamente chi fa l'amministratore sa quando programma una cosa, la vorrebbe magari vedere realizzata nel minor tempo possibile e quindi talvolta gli scavi in questo caso possono essere visti diciamo come qualcosa che rallentano le cose che si vogliono fare. Noi non abbiamo mai avuto fondamentalmente questa visione perché proprio memori dal fatto che non abbiamo testimonianze storiche evidenti il poterci invece, il sapere che abbiamo una nostra storia che questa zona era abitata 6.000, 6.500 anni fa che era zona sicuramente di riferimento perché dove adesso la città di Mantua era sicuramente lago, acquitrino, palude e qua era la zona invece dove le popolazioni decidevano di riscedere, di vivere e anche di seppellire i propri morti. Anche perché questa è sabbia essenzialmente. Sì, loro sono deposti su un terreno molto leggero ecco un po' è sabbia mista, magari ha un po' di libo però è un terreno che forse permette anche un'ottima conservazione dei resti ossei. Mi fai vedere il filo proprio? Così facciamo vedere che effettivamente è sottilissima, è ancora affilata perfettamente e poi anche contro luce fa il suo effetto bellissimo. Sì, sembra che le vertebre lombosacrali siano state abbastanza rimaneggiate assieme al bacino mentre gli arti inferiori sembrano ancora abbastanza in connessione anatomica adesso dobbiamo ancora terminare quest'ultima parte relativa alle ginocchia però sembrano meno rimaneggiati ecco. Ecco, questa è l'ultima tomba di questa sezione dello scavo? Sì esatto, poi dovremmo fare un successivo allargamento parallelo a questo e vedremo se ne usciranno ulteriori. E proprio anche al di là dei corredi che naturalmente hanno dei richiami molto evidenti dei confronti anche molto puntuali di rito funerario che richiama Remedello ossia si tratta prevalentemente di inumazioni singole in fosse terragne semplici anche con lo stesso orientamento come insomma di quelle Remedelliane cioè lo scheletro spesso è deposto in decubito sinistro, cioè sul fianco sinistro con le gambe rattratte contro il bacino e orientati nord-ovest sud-est con il capo a nord-ovest questo è un rimando abbastanza forte a quella necropoli. Lo stato di conservazione dei resti scheletrici sicuramente favorisce le analisi degli antropologi fisici e permetterà sicuramente in futuro anche di portare avanti dei percorsi proprio di analisi scientifica che ci aiutino anche a capire qualcosa di più al di là del sesso e dell'età alla morte degli individui ma anche dal punto di vista archeologico questa necropoli sta appunto già riservando insomma delle sorprese molto interessanti proprio perché siamo sicuramente nell'età del rame ma vi sono elementi del corredo che potrebbero anche richiamare epoche precedenti tra questi ad esempio sicuramente da segnalare un vago in steatite che trova confronti con materiali per i quali al momento troviamo spesso confronti soprattutto nel Neolitico Tardo e quindi insomma anche capire le relazioni insomma tra queste epoche sulla base dei corredi sarà sicuramente un punto interessante da sviluppare soprattutto per gli archeologi protostorici. La posizione è sicuramente insomma ben collocabile insomma nell'arco cronologico dell'età del rame insomma quindi questa posizione appunto con le gambe molto flesse e con le braccia invece raccolte attorno all'addome e in alcuni casi però insomma almeno in un caso in questa necropoli è stata osservata quella che noi archeologi di solito definiamo un'attività di riduzione quindi uno spostamento voluto all'interno della tomba del materiale scheletrico di un individuo precedente per far posta ad un altro. Ecco per quest'epoca è sicuramente un fenomeno abbastanza poco noto e sul quale appunto queste tombe potranno sicuramente darci qualche elemento in più. La nostra idea, ripeto insieme alla soprintendenza, è quella di creare invece una sorta di parco archeologico multimediale nel senso di lasciare, di mettere dei pannelli, di mettere un totem, due totem in cui dicano brevemente cosa c'era qua ma poi con la possibilità di collegarsi a un sito che potrà essere riempito con tutte le informazioni, le fotografie, i filmati che in questa zona per esempio sono stati fatti. Grazie per la visione!